ciao a tutti bentornati al secondo episodio di little hope insieme a me c'è sempre l'anne che sta giocando anche lei tutta in versione english for oxford ciao l'anne ciao e ciao lara ciao a tutti sai che io volevo giocare in spagnolo e infatti immaginavo io volevo giocare un po in spagnolo un po in francese la prima volta lo facciamo sì infatti fa anche in francese della storia si capisce ma si capisce uguale allora i nostri bal di bambacioni hanno avuto un incidente siamo nel presente hanno un incidente col pullman dobbiamo cercare l'autista e ci dobbiamo riunire a len e alla signora che sta con len praticamente giusto ok esatto detto questo len voleva fare una postilla prego dica pure sì allora la prima è che io ho dimenticato di dire che questo è un suo regalo e ci tengo moltissimo a dire che ma l'ha regalato lei e voglio dirlo a video perché tutti questi giochi che io sto facendo in questo periodo me li ha regalati lara perché di mi dispensa giochi in questo modo io la ringrazio tantissimo prima cosa seconda cosa lei ha notato che tutti questi personaggi qua del presente hanno le stesse iniziali del personaggio del passato guardi è lei che nota le differenze o le similitudini io no e quindi ha fatto bene a farmi notare perché io anche se la seconda run non ci ho mai fatto caso proprio sì beh penso che ma non so se ha a che fare col fatto che le facce sono tutte uguali perché chiaramente hanno usato gli stessi settori ma magari c'è un motivo presente passato dobbiamo capire bene la storia sinceramente io nella mia prima run ci ho capito una ceppa da storia posso dire ecco poi non avevo capito poche cose e io non avevo capito che i figli erano tutti adottati quelli del che sono morti nel sì quello l'ho capito io io invece avevo saltato questa cosa ovviamente riguardando l'episodio l'ho notato e certo e poi non avevo cioè avevo capito che il conducente era sparito ma non avevo capito che loro se ne erano accorti e quindi questa cosa che il conducente è sparito interessante e vediamo che fine ha fatto ma ma ricolleghiamoci con l'enna adesso ok speriamo poi ricollegarci adesso vediamo per la strada vediamo allora allora andiamo signora mi segua per favore aspetta una anzi no stanno andando avanti lei secondo me merita più rispetto si crede il più furbo ma qui i titoli di studio non signora dove va con la luce di un attimo che qui c'è una cosa esamina ah no pensavo ce l'avesse con mano allora io in questo momento sono daniel n dennis daniel vorrebbero esserci informazioni nascoste angela è veramente veramente fastidiosa non vedo un'emerita cippa se c'è non l'ho visto vabbè signora non è che sto prendendo decisioni è che lei è abbastanza fastidiosa la x no la x non me la puoi fare perché io non so dove la x signora ma lei ha dei problemi seri signora beh è una studentessa attemperata ha dei problemi anche tu sei nato welcome to silent hill sì però io ho azzeccato i qt e non volevo perché la signora doveva accadere farsi male ho fatto ho sbagliato benvenuti a testo barrato abbandonate ogni speranza parliamo della signora per caso la conosci ma è adesso non è il momento di parlarne non mi sembra infatti dovreste conoscerla invece signora e dovrei perché dovrebbe interessarmi seriamente è una città ricca di storia molto affascinante non mi faccio fregare signora non potrebbe portarmi di meno non me ne frega niente del passato di un buco di città di cui nessuno ha mai sentito ma sta signora sta signora è veramente terribile poi la conoscerai pari qualcosa non dirmi che sei d'accordo vabbè damo serena ma perché non va un po a fanculo signor glielo dico proprio con tanta sincerità e in amicizia si in amicizia come al solito che hanno fatto personaggi femminili è proprio da spararsi c'è ciao giovanni è andato tutto bene e vabbè ci abbiamo messo il nostro tempo ma come ti permetti ma non siete presa con tutta la calma del mondo ero preoccupata no abbiamo camminato normale e quindi giallo è chiuso qui non si passa ma ma passa sopra ti farai un po ma non c'è anche lo spinato serve qualcosa per forzare il cancello cosa cosa dobbiamo usare per rosa quello dai andrew forza pronto no no lo fa lei in questa parte ok 21 buonanotte se ne buonanotte dai e abbiamo fatto proviamo di nuovo vabbè uno spingi dai e io spingo però io sto giocando col pad sì sì anch'io ma ancora dobbiamo riprovarci ma è davvero uno è scrittato è scrittato non siamo noi scrittato anno è vero se lo devono fare loro mancava poco quanto anno adesso si prendono a testate sti due qual è il piano ripeto io preferisco aspettare al pullman non ho intenzione di seguire john in città e io dico che questa conversazione è finita ma non tutti sono d'accordo mettiamo nei voti non ci serve votare ne abbiamo già parlato sì ma signore non comandi tu essere un professore non ti dà il diritto di comandare qui siamo tutti adulti alcuni di noi lo sono più di altri mi dispiace ma non abbiamo tempo per litigare tu rimani con me vero non mi sembra che si viva un vento non hai qualcosa da dirmi dimmelo in faccia che fastidio facciamo così è tipico di quelle come te obbligare il fidanzato a fare da scudo no non voglio sprecare il fiato con te non è il mio fidanzato ma scherzi non è il mio fidanzato cosa mi hai raccontato non le ho detto niente tu non ti mischiare chiaro ma che te ridi troppo sul serio che so perché poi ecco è che sta bene signora è vista a gattiveria si brava strozzati ecco erano solo semplici considerazioni non vedo il problema sono fuori luogo ecco il problema quindi basta e anche non so sprecando tempo possiamo muoverci per favore continuo a dire che andare in città non è una buona idea e ma non è che possiamo andare da tante altre parti sicurezza andrion vabbè frustrazione aspetterò per conto mio andando nella fallova voi tre quarti della mazzina vostra via bene allora aspetterò da sola tra poco arriverà qualcuno davanti taylor non ti isolare non penso che sia una buona idea andarsene in giro da soli ebbè dai vieni con noi non vi preoccupate per me fermerò la prima auto che incontro e tornerò a prendervi vieni con noi lei ha dei segni che però all'inizio non ci aveva poi la sua ave è morta non puoi è tipo sei lenta di andare da sola perché sei tornata non capisco lei andava è andata via però è tornata se non capisco cosa ti prende vai o rimani non facendo tutta questa tragedia sta cercando di andare ma cosa ma che cosa hai perché torni indietro non torno indietro vado nella direzione opposta è come come se fosse impossibile allontanarsi bene facciamo una prova andiamo tutti insieme siamo arrivati da quella parte adesso ci vuole provare tutti quanti dai vediamo cerchiamo di rimanere il più possibile vicini nessuno si allontana deve la manina è meglio una testata ciascuno glielo potete dare perché è diventato fastidioso fa tutto lui ecco guarda lì e rieccoli qua vedi tevis tevis anche grazie a te l'abbiamo scoperto che da questo posto non ve ne andrete più devo ammettere che è strano in effetti è un pochino è giusto un filo non è possibile ho cercato di spiegarvelo siamo in trappola siamo bloccati va bene stiamo calmi per favore sicuramente c'è una spiegazione razionale forse siamo morti nell'incidente già teoria interessante ma nessuno qui è morto ve l'assicuro l'esperto di scrittura creativa non di metafisica lo so io chi vorrei morto la colpa è solo tua della tua gita del cazzo e ora siamo bloccati a little off stai veramente esagerando non potevo sapere che avremmo avuto un incidente non puoi darmi la colpa non dire cazzate vacci piano con le parole sto facendo del mio meglio per capire proprio come te e come tutti gli altri è colpa tua gretino qui non c'è un bel niente da capire non ci arrivi io so solo che dobbiamo ringraziare te perché la colpa è solamente tu credi che sia colpa mia neanche io vorrei essere bloccato qui con te invece sei quello che comanda una vera fu un momento è la nebbia l'unica che ci comanda quello è sempre meglio di te facci un favore e sparisci in quella cazzo di nebbia farei se potete vi prego ora basta litigare non serve a niente da che parte andiamo siamo tu sei troppo tranquillo per la situazione se a qualcuno viene in mente un'idea migliore si faccia avanti o taccia messo in carica cioè bisogno di riprendere scegliere la squadra di football ma che cazzo ma la smettete di parlare fatti non è così che troveremo distorsione la sentiamo anche io sì 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 ha ragione metterci a litigare non è di nessun aiuto collaboriamo come una squadra grazie ok usiamo la testa la nebbia si trova tra noi e il pullman però non c'è nebbia e fa che noi e la città perciò andiamo da quella parte non riesco a capire perché allontanarsi dal pullman ma questa è che c'è comunque c'è brumato che c'è l'uomo gente un telefono o qualcos'altro l'unica cosa è provare ad andare ma a dir la verità l'idea più intelligente l'ha avuta daniel dicendo che siete tutti morti a fallo e tu non vai ma sei cretina che non capiremo rimaniamo uniti e vedi c'ha segni sul collo che cosa quelli vido e tu dovresti averli sul petto dove le lance che ti hanno trafitto in effetti sono ma no sono la signora non allontanarsi da te e segui john verso la città beh però posso farla morire prima però non hanno pensato a andare all'indietro nella nebbia ah è vero che il cervello continua a funzionare anche dopo e vedi magari siamo ancora siamo ancora un pochino vivi e poi moriamo alla gattino gattino gatto nero attenzione di qua vogliono fare intuire che porta sfortuna ma portano loro sfortuna avete visto anche uno che era andiamo tutti qua tutti tutti alla finestra signora ma fregatene signora mamma mia non sono sicura che sia una grande idea proviamo a entrare potrebbero avere un telefono perché potete telefonare chissà chi ok veniamo anche noi senti perché non andiamo con loro per me hai qualcosa che non va hai detto che non stiamo insieme che bella trovata davvero ma stai scherzando ma stai parlando siamo persi nel nulla e tu ti preoccupi delle definizioni e lui si è presa perché lei non sono fidanzati allora che cazzo sarei se non sono fidanzati cosa doveva dire lec le definizioni sono inutili cretino le definizioni sono inutili ci divertiamo ci divertiamo insieme e basta e questo è il tuo ringraziamento non so cosa risponderti forse ha ragione se faccio diventare proprio la più stronti del reale se ti piacciono le donne mature perché sembra che non venga dalle sue labbra fastidiosa stavo solo cercando di giustificarti ma tu non sei d'aiuto se vuoi che ti prenda sul serio allora dovrei tirare fuori le palle non come hai fatto fino ad ora ok avete finito di litigare voi ma quanto pare risernato non sono mai stato meglio lei sembra posseduta di lei meno tre ore mentre acqua dentro datevi una mossa sì veramente c'è ma un maron atti questi salve è da solo qua dentro ma è un bel posticino lo tenete bene la biretta c'è offre cura noi ciccio mister chi è mi scusi stiamo cercando il nostro autista come l'ha visto dovreste un po preoccuparvi che cosa ha visto la nebbia là fuori non è normale stasera è fitta altro che così fitta che noi siamo bloccati se so cosa si prova è secco in giro ci sarà un telefono qualcosa no ma perché lo prendi per mano cretina mamma mia che scene vietose capito devi deciderti decidermi su che cosa me bene che non voglio dirti dietro come un cagnolino allora scusa non troverò nemmone mai non è il momento di dico ti prego non è il momento di fare la si chiama il bar del gatto nero spaventata per quella nebbia sono preoccupato anch'io ma almeno non te lo faccio pesare ok prendi lo si facciamo come il tuo a una partita ecco bevi bevi vabbè questi diventano a giocare a freccette di prego la testa spero che il polso sia fermo è anch'io però lo faccio glielo faccio far apposta usa dov'ho tirato ho botti lano che cosa è successo qui con le freccette abbiamo finito prende concentrati ascoltami per una volta per assagirando scusa ti lascio in pace c'è un telefono te la stai tirando un po troppo hai una bella faccia tosta sei incredibile ma le palle si due questi stanno giocando a freccette di bloccati con quei per la nebbia ma il viaggio da schifo potrebbe andare peggio potrebbe piovere qui non fanno niente qui siamo nella merda e l'uno guardiamoci attorno basta che fanno girarci dimmi cosa pensi tutto bene sono stato meglio qui siamo tutti preoccupati ma comunque non è normale come vi comportate sei lentile ve lo dico siete proprio sei lenti angela mi nervosisce perché non si fa mai gli affari suoi si potrebbe anche pensare ad altri invece di alimentare tensioni tra di noi sei lui si diverte così no io sono una ragione andiamo a vedere che succede però perché non ci fanno giocare insieme così è un macello ah hai trovato un segreto vi disturbo per caso no no stavo per dare una chiata in giro perché sono venuta a chiederti cose sorvoliamo ma io stavo guardando cose che facendo cretino ma perché ti metti a giocare a freccette no qua angela vabbè ci parlo questo è un cesso è meglio andarcene da qui siamo d'accordo non vedo l'ora di andarmene da questo inferno allora do una spipponata in giro vediamo se trovo cose da leggere lo fa fare perché a me non l'ha fatto fare aspetta come faccio ecco trovo una cosa da legge la prendo sembrano numeri e poi astrology spirit of ghost ma io non riesco a tirare la freccetta non me la tira ma perché non la tiri ma sei impazzito spiriti o fantasmi moh esamina un altro biglietto o una cartolina boh 6 giugno 1917 guarda 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 sta foto la lista sta foto e noi sto giocando a freccette sto cretino si è messo a giocare a freccette ci stanno praticamente ci stanno loro maschietti che sono militari tutti hanno la stessa faccia da queste fasi si allora qua c'è altro da legge vediamo ma davvero mi fai giocare a freccette tutto sto tempo ma questo gioca dei problemi comunque è anche se stavo facendo delle cose importantissime mi ha fatto giocare per forza ok un giornale a freccette la foto devo vedere la foto qua fammi vedere dopo parlo convince una specie di moria guardiamo degli anni 70 ok giornale vecchio niente comunque vediamo vediamo qua posso andare faccia intelligente verso la città no ma perché ma no ma non volevo scusa avete sentito questo cartino pensavo che fosse un oggetto sentito anche lei ma tanto ho spippolato andiamo sì ma io no qualunque cosa proveniva da fuori sicuri che uscire da qui sia una buona idea non c'è niente di utile è meglio proseguire questo cartino decide tutto per i fatti suoi come il suo personaggio potevamo andare dietro al bancone che ne so ma io devo ancora parlare con vince ma tu dimmi sì ma non è normale questa cosa oh tre centri quattro centri ma chi li ha fatti io io ah ok perché io sicuramente no the black cat bar ma con la biretta che hanno offerto io poi è tenuto anche male sembra arrivi dalla città ok il suono delle campane io ci ha chiusi fuori era strano il nonnetto non vuole che rientriamo chi è che verrebbe in questo postaccio per fare il pieno in che senso allora tu sei angela angela e io sono ciccio bello qui signora dobbiamo morire in fretta perché io non voglio più tenerla allora com'è che andavano più veloce si con aspetta lb ok la signora però è sempre più indietro degli altri non so perché no veramente io sono l'ultima cioè io sono l'ultimo come sì sì sono l'ultimo io sono più dietro di ok qua c'è roba importante guarda che roba ti hai visto questa è una bambola voodoo è roba della strega di blair eh sì vediamo qua se c'è qualcos'altro voi voi andate oh la signora la signora si è allontanata dal luogo no c'è qualcuno che mi sta guardando porca vacca che spavento tu non l'hai visto si adesso ah ok che caga che mi sono presa sti giochi non fanno paura mai no vabbè ma questi suoi jumpscare ma basta madonna basta non mi piacciono questi jumpscare che vedi potresti venire qui sì eccomi nonna belarda eccomi almeno stiamo insieme cosa c'è che c'è che hai visto nonna ho visto qualcuno nel bosco ho visto la bambina e se fosse l'autista del pullman risposta intelligentissima no ero la bambina forse sei ancora sottosopra te dico va bene forse sei ancora un po' scossa non mi sembri convinta perché rispondo questo ah perché non ho cliccato bene l'ho vista ed era una bambina ora non ci sono più una bambina là fuori ma razzo 10 che ci fa una bambina in giro a quest'ora della notte eh dai quello è il problema sono più che certa di averla vista ma sarà una botta in testa cioè io non vedo nessuno ora non ci sono più ma chi non ci sono più io non vedo nessuno non non vedo nessuno laggiù sì vabbè Anthony sei inutile Anthony o Andrew oh guarda là oh ok oh wow visto Andrew? io non ho visto niente ho sentito qualcosa ma non ho visto niente what the hell ha detto what the hell c'è un brutto rumore eh deve essere una banshee eh e forse è una banshee cioè c'è ragione d'accordo va bene adesso ho paura no ma Andrew è un cretino eh comunque chi sei? chiunque tu sia non è divertente quanti anni hai? John dove sei? Daniel? Taylor? ma sono avanti voi siete rimasti indietro dai John dove sei? non sei divertente mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace ma sono tutti sulla strada eh andiamo andiamo continuiamo signora vada dentro andiamo andiamo vada no no non si può andare niente ah no dice stai vicino a Andrew ma perché devo star vicino a Andrew scusa venga nonna la difendo io ah 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 è la torcia più bella della mia ehi aspettateci senti senti è la banshee eh sì è John è la banshee è la banshee è la banshee è la banshee attenzione guarda qua che c'è cerchio della vita oh cos'è il cerchio della morte eh vieni qui a vedere eh sì c'è una bambolina che sarebbe è un rito voduoso eh non saprei non ne ha idea però no hai no idea vabbè vediamo giriamo la bamboletta la segreto trovato segreto ok puppet eccola ecco la mia sorella ah siamo finiti nel passato del nome dire il nome andrew andrew bambacione andrew eh sono andrew andrew invece voi signora e io sono la signora ehm sono una ceppa ma tu che sei perché sei vestita così eh io mi chiamo mary ah mary come megan l'ho fatta io con le mie mani e chi rappresenterebbe è uguale a quella che avete accanto vi andrebbe di giocare con me ma magari anche no ma sta ceppa giochiamo ma chi giocava sola ma intorno al fuoco giochi giocate con me c'è una strega ah non sa che ci vede solo la bambina l'altro non ci vede l'altro non ci vede perderai la benevolenza del reverendo quando scoprirà la tua promiscuità col maligno te ti odiano sempre in tutte le in tutti i hai visto? ah quella si chiama emi ci sono delle persone sono al falò che cosa ma non c'è nessun falò eh beh qualcuno c'è qualcosa l'ho vista anch'io sta andata in linea eh abbiamo visto abbiamo avuto la stessa visione eh questo posto è malato vabbè come hai fatto a non vederle? non si vede niente attraverso questo impenetrabile fitto muro di nebbia su digli cosa abbiamo visto? una bambina è sbucata dalla nebbia poi così come è apparsa e scomparsa che significa? forse la nebbia quello che ha detto quello che ha detto siamo sotto pressione ma quale pressione? le allucinazioni collettive ho visto chiaramente una bambina ballare davanti a me ha detto di chiamarsi mary era identica alla bambina del sogno ma ah hai fatto un sogno parlava in un modo strano si e lui ha fatto il sogno del principio no? che la casa aveva fuoco e quella era la sorella si ah ma era un sogno allora questa mary ma mica l'avevo capito voleva farti del male eh può essere non voleva fare del male potrebbe essere malvagia no voleva gioca non credo volesse farmi del male e ora possiamo soltanto dirigerci verso la città mi prendi in giro hai un'idea migliore torno al pulmo certo lei non vuole non vuole mai proseguire no noi sappiamo cosa abbiamo visto nonna eh signora noi siamo Andrew noi siamo collegati eh sì eh siamo con le gli altri oh eccolo eccolo grandissimo ciao guarda come balla va felice perché sta vedendo questa situazione è precipitata in fretta è vero ti hai visto nulla è nocivo a dosi moderate eppure ci offri pure a noi eh ah quanto possono essere ingenui questi mortali te lo sei bevuto tutto però ma fattimo se sta a beve l'aria siamo abituati a rallegrarci con noi stessi al risveglio da un sogno tormentato forse accade lo stesso anche dopo la morte può essere nei numerosi viaggi della mia vita sono stato testimone di molti eventi ho visto e sentito varie credenze e affermo senz'altro che vi era in ciascuna un po' di verità ok sembra che questa povera gente sia minacciata da forze del tutto inesplicabili ebbè come ombre che si agitano nel bosco spiriti del passato e una bambina che è forse in pericolo a meno che non sia lei il pericolo eh io andrei più su quella ma dove la seconda che hai detto Angela ha qualche difficoltà a convincere Taylor a confidarsi eh beh si comporta male beh evitiamo i pettegolezzi e che dire di John sembra che incarni l'autorità è un po' stronzo John o magari rappresenta qualcos'altro sta ceppa e poi c'è Andrew mi sembra leggermente confuso bambacione potrebbe essere la botta in testa sono molto colpito sono state prese decisioni che si riveleranno preziose tuttavia altre potrebbero rivelarsi poco felici poi quell'uomo nel bar non è stato di grande aiuto anzi parecchio scortese devo dire la sua mente è torbida o così pare molto strano quello sì bene l'opera chiude in sé qualcosa di misterioso e potrebbe celare dei pericoli ma è ora di andare forse la nebbia si disperderà bisogna trovare l'autista addennato poi sa dov'è? non ce lo dici ma stiamo sempre nella nebbia però siamo arrivati a un edificio forse una casa è una casetta una casetta nella nebbia dai adesso vediamo se John ci lascia spippolare deve essere stato inquietante ma presto sarà tutto finito John sei tu adesso direi che quello che è successo è molto più che inquietante cos'è successo? oddio ma io sono il cretino aspetta però non andare avanti cerca aiuto in città tieni d'occhio gli altri ok allora io direi che per oggi ci possiamo fermare anche qui yes siamo ancora per la strada però però dai progressi ne stiamo facendo devo dire no? sì sì direi parecchi bene allora noi vi salutiamo bellamente e riprenderemo da qui la prossima volta ciao a tutti ciao